Un'opera d'arte è un investimento oltre che economico anche morale, dato che può essere il mezzo per dar modo al nostro spirito solidaristico di potersi esprimere. Acquistare un'opera d'arte di un artista locale per abbellire il proprio spazio vitale e contemporaneamente finanziare i progetti didattici di una scuola del territorio non è niente di più facile in questo periodo. A Palazzo Bracci Pagani, nella Sala Ipogea, in questi giorni è stata allestita una mostra di artisti locali che hanno messo a disposizione il loro talento a costo zero per la scuola di Bellocchi. C'è stata una generosità spettacolare da parte degli artisti fanesi che hanno contribuito alla realizzazione di questa mostra che secondo noi è bellissima. Abbiamo avuto anche un sacco di riscontri ed è tutto a fine benefico perché poi i proventi di questa mostra, che sarà tramutata in asta domenica 9 ottobre alle 17, i proventi appunto arriveranno alla scuola di Bellocchi per reinvestirli in progettualità differenti, tra cui il progetto Coro e altri progetti che comunque conduciamo in tutto l'anno scolastico e per tutto l'anno scolastico. Ringrazio la responsabile di questo progetto che si è spesa tantissimo insieme a tutto il corpo insegnante della scuola primaria di Bellocchi che è Cristina Francolini. Orario e tempi di questa asta? Allora, l'asta si terrà domenica 9 ottobre alle ore 17 fino ad esaurimento della merce, dei quadri, per cui vi invitiamo veramente a partecipare numerosi perché oltre alla bellezza c'è anche il fine di aiutare una scuola che comunque negli anni progetta e produce progettualità interessanti.